Toro e Juve in questo anomalo weekend in cui si disputa la quarta giornata di ritorno di Serie A giocheranno distanziate di tre giorni. Infatti il Toro, quart'ultimo, scende in campo già stasera in Sardegna contro il Cagliari, terz'ultimo, due punti più sotto, in quello che è un autentico spareggio salvezza. La Juventus quarta, invece, ospiterà l'undesera il cratone ultimo e per Bianconesa molto importante l'esito del derby di Milano, domenica sera confidando in un pareggio per accorciare le distanze sia dall'Inter che dal Milan. Ma veniamo al Toro che riduce da cinque pareggi di fila, otto nelle ultime dieci partite e stasera Cagliari potrebbe forse accontentarsi del sesto pareggio consecutivo per rimanere a più due sul Cagliari, ma all'occasione pari Belotti e compagni e ghiotta. Vince stasera potrebbe ganata a più cinque sulla zona di traccessione permettendo di vedere la classifica con meno affanni. In questi casi di solito prevalgono tattiche prudenza stasera sapremo se Cagliari sarà la cronaca di un pareggio annunciato oppure se ci saranno colpi di scena.